Buon pomeriggio a tutti, possiamo iniziare? Benvenuti, grazie per essere qui. Io sono Gianluca Campo, coordinatore di Refinchini Economis Cattolica e referente economico professore del M&T. Introduco oggi i nostri occhi, in particolare il suo bocchiera di Zoccarato, che ringrazio per la sua presenza, in una ora e per l'intenzione di contributo che ci sarà, e invece Marco Cattano, che sarà introdotto dal professore Marcello Spanotti. Chiara Zoccarato è stata tra gli organizzatrici per i due congressi che si sono tenuti a Vimini nel 2011, i congressi M&T, che hanno portato per la prima volta in Italia i professori, esponenti della teoria della moneta moderna, della modern magicio. È possibile definire brevemente la teoria della moneta moderna come quella visione macroeconomica attraverso la quale si mette in luce il funzionamento del sistema monetario per offrire soluzioni macroeconomiche e per raggiungere a contempo la piena occupazione e la stabilità dei prezzi. Successivamente, Chiara è divenuta membro dell'associazione M&T Italia, di cui poi è divenuta membro del direttivo nazionale. È stata relatrice di diversi convengni pubblici, si è battuta per il no al referendum sulla riforma costituzionale. Ad oggi partecipa al network per il socialismo europeo e recentemente il suo impegno civile è stato trasformato in impegno anche politico. Il suo intervento è intitolato Il governo dell'economia in una governance multilivello, la struttura istituzionale dell'Unione europea e la crisi. Vi è quindi un taglio profondamente interdisciplinare in questo titolo, in cui si mettono insieme un connubio tra la dimensione economica e la dimensione giuridica, avendo oggetto nell'Unione europea. Come chiarito dal titolo, la governance europea è una governance di multilivello. Ciò vuol dire che l'elaborazione, l'attuazione e l'implementazione delle politiche pubbliche sono definite da un'azione coordinata tra gli Stati membri dell'Unione europea e le istituzioni dell'Unione europea. Questa implementazione delle politiche pubbliche è elaborata e attuata sulla base delle competenze, competenze che vengono definite, vengono affidate ad entrambe le parti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è quindi il pilastro fondamentale, quindi la base giuridica della governance europea e quindi della governance europea in materia economica. Brevemente vorrei sottolineare l'importanza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare sulla governance in materia economica. La governance in materia economica è definita dal titolo 8 del Trattato, intitolato politica economica e monetaria e monetaria. E ricopre un ruolo fondamentale nella struttura istituzionale dell'Unione europea e quindi all'interno anche delle nostre vite. Perché? Perché questo ruolo fondamentale? Perché il titolo 8 del Trattato, definito appunto politica economica e monetaria, mette nero su bianco il sentiero della politica fiscale, della politica di bilancio che i governi devono rispettate. Indipendentemente dal loro orientamento valoriale, se appartengono all'universo valoriale del centro-destra piuttosto che del centro-sinistra, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del titolo 8 già prescrive le indicazioni di politica economica e l'atteggiamento che i governi devono avere rispetto alla politica fiscale. Più precisamente cito l'articolo 126, che è uno degli articoli più importanti di tutto il Trattato sul funzionamento e non solo del capitolo 8, in cui è scritto nero su bianco l'atteggiamento dei governi rispetto alla politica fiscale. E quale deve essere questa linea economica prescritta? Brevemente questo capitolo si apre, cito esplicitamente, con questa frase. Gli Stati sono tenuti ad evitare disavanzi pubblici eccessivi. Questo vuol dire che già questa prima introduzione si capisce quanto il governo debba creare risorse finanziarie nette all'interno dell'economia. Cioè non viene definita la composizione delle risorse finanziarie, cioè della spesa pubblica che il governo crea nell'economia, ma il livello, il livello quantitativo. Quanto deve spendere e quanto deve tassare? Quante risorse finanziarie ed economiche il governo deve creare mettendole nell'economia e quante deve distruggere attraverso la tassazione? In particolare i governi sono tenuti a rispettare delle soglie di indebitamento. Per quanto riguarda il deficit, la soglia massima di indebitamento è il 3%, per quanto riguarda il debito pubblico è il 60%, riferito in termini al prodotto interno lordo. Il compito di sorvegliare l'evoluzione dei bilanci pubblici spetta alla Commissione europea. La domanda che vi pongo arrivata a questo punto è questa, ma alla luce dei profondi shock che hanno colpito il tessuto economico e il tessuto sociale dell'Italia e che in parte continuano a colpire anche oggi il tessuto produttivo economico e quindi sociale dell'Italia. La governance europea in materia economica ha avuto un ruolo propositivo rispetto al rafforzamento dell'economia o distruttivo in relazione allo stesso oggetto? Questa mi sembra una domanda fondamentale alla luce anche del prossimo governo che ci sarà. Spero che l'intervento dichiara, sono sicuro, si avrà a dare una risposta concreta a questa domanda. Passo quindi la parola. Grazie, grazie. Allora, buon pomeriggio e grazie a tutti per essere qui. Sono davvero molto contenta di essere qui con voi. Io vengo da un mese di campagna elettorale, quindi devo dire sono abbastanza stremata, tra l'altro abbiamo preso anche una raccosta di quelle epiche, però spero che ci serva. Penso che il risultato uscito da queste elezioni sia chiarissimo. Le persone sono stanche, sono spaventate, cercano protezione e hanno votato i partiti che più gli hanno dato l'impressione di corrispondere a questa necessità. E non nascondo nemmeno che non mi aspettavo che noi prendessimo così poco, ma questo serve, ripeto, perché è una bella lezione. La sinistra deve partire su basi più concrete, più solide, da un'analisi più lucida evidentemente e con argomentazioni sicuramente più forti. altrimenti non veniamo percepiti, non veniamo riconosciuti per quello che lo sono. Comunque, non voglio parlare oltre di politica italiana, però comunque il mio intervento è un intervento che va ad analizzare la questione politica in generale. Mi sono spiegato qualcosa perché mi sono proprio fatto, in mezzo, in questi ultimi giorni a memorizzare tutto l'intervento, per cui ogni tanto leggo, ma anche per ratenere un certo filo di discorso. Dunque, quello che voglio proprio far capire con questa breve relazione che ho da fare, è che c'è un legame strettissimo tra istituzioni, diritto e sistema economico. Cioè, questo legame è speculare dei rapporti di forza sociali ed economici che sono all'interno della società. Cioè, è un rapporto di tipo politico. E per quanto i tecnici amino dire il contrario, è proprio la politica che disegna questo legame. La verità tecnica, anche evidente, deve fare i conti con la sua applicabilità all'interno di quei rapporti di forza. Infatti, sono più che aspetto di vedere dove andranno a sbattere tutti, su che tavolo. Ovviamente avrete già capito che io ho un punto di vista politico di sinistra. Per me, le istituzioni, le leggi e il sistema economico devono essere indirizzate alla realizzazione di un progetto collettivo-democratico che persegue l'interesse generale e il progresso sociale, culturale e scientifico, quindi veri. Non li gusta qualche punto di tempo, sono innovazioni veramente, che sono puramente commerciali. e quindi che sappia coniugare libertà individuale e giustizia sociale. E voglio partire dalla nostra Costituzione. Perché nella nostra Costituzione questo legame tra i diritti e i principi fondamentali, le istituzioni e il sistema economico era strettissimo, era molto coerente e chiaro, tanto che la nostra Costituzione era anche una Costituzione economica. Cioè, il modello di economia che doveva avere la Repubblica era chiaramente espresso all'interno della Costituzione. Non è che c'erano tanti dubbi che la nostra era un'economia mista. Basta ricordarsi dell'articolo 41. Era limpido. E cito un paio poi di riflessioni di Carlo Lavagna, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Costituzione socialista. Questo libro è stato scritto nel 1977 e non si trova in giro. E' fuori dal giro, cioè in pochissime biblioteche. Io ve lo sono fatto recapitare da Pulido adesso, perché non ce n'era neanche la propria pavola. E lo vedete per chi lo vuole, ho fatto un pdf, ne lo do. E' veramente un libretto illuminante. E cosa diceva Lavagna? Diceva che se il socialismo dovesse essere introdotto in Italia, senza lotte politiche e violente, senza fini politici, per Gatti, la sua conciliabilità con le norme permanenti della carta, risulterà in avvitura implicita e presumibilmente assoluta, anche se dovessero mostrarsi necessari alcuni adattamenti. Bene. Allora, cos'è che è andato scopo? Allora, il diritto era chiaro, le istituzioni erano conformi. Noi, il problema è che abbiamo affidato l'economia al blocco liberale fin da 1947. Blocco che rappresentava gli interessi di patto e piuttosto identificabili. Abbiamo iniziato con Corvino, siamo proprio partiti bene. Tuttavia, la lotta politica è riuscita ad ottenere degli avanzamenti, perché la democrazia era vera, era sostanziale. E in qualche modo, ha funzionato. Perché non è vero che l'economia da sola è sufficiente a modificare un modello sociale. Dobbiamo stare molto attenti su questo. Vanno modificate anche le istituzioni e le fonti normative. Cosa che è accaduto poi. E riprendo un'altra frase di Lavagna, che è profetica. Meravigliosa. Che cosa dice? Tutta la Costituzione è in qualche modo strumentalizzata per seguimento dei fini ultimi da essere indicati. Sì, da realizzare un tipo di sistema progressista a senso unico. Un sistema fisico, destinato a risolversi in un sistema di tipo socialista, democatico. A meno che non intervenga, in questo naturale processo evolutivo, una causa esterna modificatrice, in pratica un colpo di Stato delle forze conservatrici. Profetti, così, l'ha scritto nel 77 e nel 78 in grado dello Stato. Il dibattito e il Parlamento al tempo è stato parecchio di pace. Il partito comunista era assolutamente contrario, più anche altri partiti. Aveva previsto perfettamente che lo spostamento del potere decisionale su moneta e economia, il mercato, a organismi etero-disretti, quindi sovranazionali fuori da un effettivo controllo politico, avrebbe impedito uno sviluppo armonico del nostro Paese. Che non era ancora a posto, non era ancora la questione meridionale della stessa domanda. E Lucio Madri, fantastico, in due righe ha detto tutto quello che diceva. Scegliono l'adesione allo SME non perché confidino in un vantaggio economico, ma perché la considerano un deterrente necessario per imporre una svolta che smantevi i rapporti di forza politici di classe costituiti in questi dieci anni e per la quale sanno di non avere una forza sufficiente all'interno del Paese. E infatti da lì si inizia veramente la disceglia. negli inferi. Allora, quella in cui viviamo oggi è una struttura tecnocratica, per neppetere, che dobbiamo esplicare la sua natura, che è ancora politica. Dobbiamo prenderci conto che è ancora tutta politica e vive di conflitti interni e compromessi continui, perché se c'è una conflittualità all'interno degli Stati membri, a livello di governo, anche di classi industriali, che è qualcosa di spettacolare, insomma c'è veramente la stagione del po' corno. Le istituzioni, purtroppo europee, la sono disegnate per garantire la fissita dei rapporti di forza sbilanciati a favore del grande capitale privato, industriale e finanziario e ai cittadini. Nei governi, legittimamente eletti, garantisce la sola partecipazione. Questa è la vita. Lo dice bene la professoressa Radia Maccabini che ha fatto uno studio proprio sul concetto di partecipazione dell'Unione Europea. Bellissimo. Lo dice, la Commissione Europea, nel libro bianco, assegna un ruolo pressoché trascurabile ai Parlamenti nazionali. Al più concedere, li considera come aiutanti, volti a favorire l'efficacia delle politiche europee, sia attraverso il controllo sulla loro corretta implementazione e esibizione all'interno dell'ordinamento naturale, che attraverso la formazione di una coscienza europea nell'opinione pubblica. La conseguente perdita in termini di democrazia rappresentativa sembra poter essere adeguatamente compensata, secondo l'argomentare della Commissione Europea, attraverso l'apertura e la partecipazione dei soggetti interessati. Cioè la democrazia dipende dalla capacità delle persone di prendere parte al dibattito pubblico. Ma mi pare che sia così. Cioè, in democrazia l'importante non è partecipare, è concorrere a determinare le politiche che poi si applicano sulla pelle di chi è soggetto, talvolta oggetto. Mi preme molto sottolineare questa cosa qui. Perché a volte si parla tanto di partecipazione, ma la partecipazione è fictizia. Cioè la mia partecipazione ha un senso, se posso condividere qualcosa. Se no mi ha preso il giro. Cioè, mi fai partecipare, grazie tanto, eh. Non importa, faccio anche a meno. Intanto devo essere considerato un nulla. E infatti, le cose che contano sono ben altrove. La governance europea è composta da più istituzioni. E una, guardate, una miliade di agenzie indipendenti. Ma ce ne sono tattissime. Una cosa incredibile. E sono indipendenti, si midi da fuori dal controllo, democratico ovviamente, che fanno quello che vogliono. E sono intercolteste tra di loro in vario modo. E ovviamente su livelli diversi, orizzontali e verticali. La governance trasmette attraverso queste connessioni gli input informativi delle politiche da sviluppare e le riceve gli output che servono a monitorare l'efficacia della performance ottenuta. che devono essere conformi a dei principi tecnici predisposti. E questo cosa vuol dire? Che quando si mettono dei parametri numerici, quando si imponano un inco, quando si parla di pilota automatico, che va tanto di moda, si sta sottraendo il controllo dell'economia e della politica alla democrazia. Perché la presunzione di oggettività precluta in qualsiasi tipo di dibattito. E' così molto particolare. E chi le fa queste benedette leggi? Chi fissa questi parametri? Bene, la Commissione Europea è l'unico organo a cui compete dirigere le proposte di nuovi atti legislativi. L'iniziativa di cui gode da poco il Parlamento Europeo è limitata alla sola possibilità di fare una proposta. Poi, intanto, decide la Commissione. Il Parlamento Europeo è una funzione decoattiva all'interno della governance. E' un po' curiva e solito. E da dove prende dalla gente gli input per le proposte legge della Commissione? Dica, c'è una sconoccia, dico, chiaro, dall'autismo, dalle logiche. La Commissione di Venezia è un intento giudico molto molto importante e in genere viene contattata dalla Commissione da vari organi dell'Unione Europea quando ci sono delle castagne da togliere dal fuoco perché i suoi pareri sono considerati molto molto torrevoli. E alla Commissione di Venezia era stato richiesto un rapporto proprio per verificare il ruolo degli attori extra-istituzionali e quindi anche il lobbismo. In questa relazione cosa dice la Commissione di Venezia? Emerge che nell'Unione Europea il lobbismo è una parte centrale e legge del processo democratico. Continua. Sebbene il termine sia stato stesso associato a connotazione negativa chissà perché il lavoro degli lobbisti è essenziale. Parole testuali. Tra gli attori sono impegnati a dare input feedback al sistema politico di tipo anche professionale perché questo in loro parete conta e quindi gli aiuto a sviluppare nuove politiche. Chi sono i lobbisti? Anche questo dovrebbe andare a vedere chi sono i lobbisti nell'Unione Europea. Sono tutti i gruppi di interesse senza alcuna distinzione tra interesse privato o interesse pubblico. Una precisazione in questo sistema significa che se un cittadino non è associato a una qualsiasi caldo di associazione o gruppo che si fa lobby non conta. Non esiste. Se magari si so c'è anche che ne so agli amici della poca monaca conta di più che si sta da solo in questo sistema. Purtroppo è vero. E quindi i lobbisti sono corporations gruppi degli industriali gruppi bancari i sindacati e le organizzazioni non governative tra cui le NGO e parte della società civile organizzata. Cioè questo è molto interessante sono equiparati e protetti allo stesso modo dall'articolo 10 11 della Carta di Diritto Europea. Peccato che non abbiano la stessa capacità di influenza come la Commissione di Venezia stessa ammette al paragrafo 53 di questo rapporto dove per non so circa 35 pagine magnifica il lavoro delle lobby arriva al paragrafo 53 un grande problema è la disparità di risorse e mezzi tra i differenti attori cosa che è fonte di preoccupazione dal momento che le risorse contano e come se contano il campo di gioco non è imparziale. Quindi effettivamente stiamo vedendo che il problema della democrazia all'interno di una governance è un problema serio Nella Commissione di Venezia si è analizzato anche appunto il concetto di governance ed è stato analizzato da una giurista che secondo me è davvero molto in pianta si chiama Grant Haller e ha scritto più relazioni sulla governance in cui va a chiarire bene di cosa si tratta e di stare molto attento a non farsi ingannare dai termini come mai si usa governance in governo abbiamo visto come differenti attori hanno utilizzato il termine governance per l'età di usare quello di governo perché avrebbe sollevato complicate questioni sullo Stato sulla sovranità di uno Stato come l'euro il concetto di governo è legato alla sovranità dello Stato e negli Stati democratici con la sovranità del popolo se la governance è un tipo di governo senza sovranità non può mai essere associato con la sovranità del popolo di fare e aggiunge dobbiamo essere molto sospettosi dalla posizione dell'aggettivo democratico al concetto di governance e quindi il concetto di democrazia capiamo che dipende molto anche da quello di sovranità e il concetto di sovranità va detto che viene volutamente demonizzato perché è irrisolvibile all'interno di questa nuova non è risolvibile e guardate perché le hanno tentate tutte per cercare di schivare nascondere e stificare sono fantastici adesso vi leggo che cosa ha detto in proposito un giurista piuttosto famoso e che è impegnato a cercare di difendere la governance e quindi di evitare i conti ha scritto delle cose che secondo me raggiungono livelli quasi di surreali quasi pochi si chiama Andrassi Acab e appunto ha scritto una relazione su come come neutralizzare la questione della sovranità e dava dei consigli ai suoi colleghi di un rischio allora quale dovrebbe essere la nostra risposta sulla questione che riguarda la sovranità nell'unione con me il mio punto è esattamente che sia un equivoco che noi si debba perfino dare una risposta il vero concito di noi giudizi è quello di neutralizzare la questione il nostro compito è quello di evitare prevenire la questione e se qualcuno ancora la pone sto impunito allora dovremmo dare una soluzione che non dica nulla di pratico per i conflitti se non vogliamo rafforzare la possibilità di questi conflitti ma piuttosto prevenirli allora il nostro compito paradossale è quello di costruire una incertezza legale sviluppando complicati costrutti concettuali che rendano virtualmente impossibile l'uso diretto dell'argomento sovranità e di dare un metodo pratico per evitare i conflitti di modo che nessuno rischi il conflitto e tutti coperno tutti e tutti andras jacob neutralizzare la questione della sovranità si è tutta roba c'è in ingilese tu proprio si si ok perfetto trova fuori questa roba qua cioè ho perso veramente mesi ragazzi speriamo allora questo 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 e torniamo all'altro fenomeno di casa nostra visto che non è che le cose non le sapevano le sapevano perfettamente come erano e come sarebbero andate c'è una bellissima intervista di Giuliano Amato del luglio del comunale che ha trovato un attivista alzato e l'intervista che l'ha fatta la 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 l'Europa non ha bisogno di sovranio cosa dice Giuliano Amato tutti costoro da Fischer ai federalisti ce l'ha quindi quei federalisti che io erano non le ho per l'altro si muovono nella cultura di ieri la cultura statuale così come si è sviluppata negli ultimi tre secoli ancora pensano che denudando gli stati nazioni della sovranità questa traslocchia a livello superiore ecco che sbagliano con me oltre che riferiamo la verità è che il potere sovrano spostandosi evapora scopare pesquali parole evapora i poteri sono trasferiti a livelli superiori senza che questi diventino sovrani questo io parlo di trasferimento di funzioni e non di poteri l'unione europea è un nuovo ordine post-statuale dove non esistono più simboli identificabili sovrani al loro posto esiste una moltitudine di livelli di aggregazione oggi nessuno è più sovrano al suo posto abbiamo un'Europa multilivello e poi aggiunge così si è fatta l'Europa creando organismi comunitari senza che gli stati avessero l'impressione che si imponesse loro sopra un potere superiore la corte di giustizia come organo sovranazionale nacque così fu una sorta di atomica non vista che Schumann e Monet infilavano nei negoziati allora adesso non so cosa ne pensate voi sui stipendi dei parlamentari però io lo pago anche il topio se però evita di farmi infilare gli atomici nei negoziati senza vederle cioè nessuno che ha fatto questo vogliamo fare il problema ovviamente è chiaro no? la nostra costituzione è la sua radicata che è il popolo cioè com'è che fa a spagire se sparisce non ci abbiamo più mi fate tanti bei discorsi per poi dirmi ciao scusa non comandi più dove ma chi è sovrano allora perché io onestamente non sono mica così pesa a pensare che la sovranità è rata neanche lui secondo me oggi purtroppo è il mercato noi abbiamo l'Unione Europea è un mercato va a costituire un mercato unico altamente competitivo che poi mira tutte quelle magnifiche cose che non vuol dire niente mirare in senso politico non vuol dire assolutamente niente la nostra costituzione è molto più forte nell'articolo 3 la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli è tutto un altro tipo di concetto e il mercato unico mi miri alla piena occupazione non significa niente anzi mira mira colpita affondata questo purtroppo è la verità c'è una frase poi che ho trovato nel famoso documento dei 14 economisti franco-tedeschi che è stato redotto da poco che ha suscitato anche scalpore insomma è un documento che merita la matura anche solo quello di un'unità di tutti per capire questa gente in questo testo a pagina 5 io ho trovato una frase che riassume esattamente quello che è l'unione europea e che è il tipo di mercato che stiamo andando a creare mai trovato una sintesi in un'unità i cittadini e le corporations della zona euro devono devono poter tenere i loro risparmi in strumenti finanziari la cui rendita sia indipendente dalla disoccupazione o dal calo della produzione nei loro paesi rendita indipendente dall'occupazione e dalla produzione dei loro paesi a me ha fatto venire i politici quando mi ha detto scrivere è sconvolgente ma te lo dico mi faccia questa è la realtà onestamente non so come si possa ancora definire un sogno questa cosa è diventato proprio un incubo ma che sia questa la strada che ha preso l'unione europea non solo l'eurozona l'eurozona non lo poterà ma tutta l'unione europea è evidente che è così in tutte le leggi in tutte le regole che le abbiamo fatte nei sovrusi continui quindi praticamente siamo passati da una società di milito a una società di mercato sì proprio quella di Polani che è la di Polani descrive l'orella tra le trasportazioni che può definire la società in tutto il senso perché è un insieme di individui le cui relazioni e interazioni sono principalmente di tipo economico non sono coordinate dettate dalla ricerca del profitto quindi è un'ante società e quello a cui stiamo assistendo la disuguaglianza crescente gli studi nell'economia le crisi i fallimenti le bolle speculative lo smantellamento del welfare sono sintomi chiarissimi le conseguenze di un processo in atto ormai da 40 anni l'attacca alla società alla gestione collettiva della cosa pubblica e dell'economia quella ricordata la tace quella che diceva there is no such thing as society non esiste la società ma vita bella quindi si aspetta un attimo e guardate che era la stessa che diceva there is no public money all the tax payers money non ci sono non c'è denaro pubblico ci sono solo i soldi dei contribuenti da una parte vuol dire se poi il pubblico lo sarà lo smantellare ma dall'altra è un monsepidur invece è proprio un'assurdità perché senza la moneta pubblica non esistono i soldi per le tasse si sente veramente incredibile la moneta è un monopolio pubblico viene messa e garantita da istituzioni pubbliche e anche la moneta indogena bancaria non esisterete se non fosse all'interno di un sistema che ancora non può essere altrimenti istituzionali il problema è chi governa per istituzione però la moneta non è stata merce la moneta non è privata non ci sono i soldini di tizio o di caio sopra c'è la faccia della regina c'è la scritta la vigina punto questo attacco va detto che arriva sia da destra ma purtroppo devo dire anche da certa sinistra cosmopolita narcoaile i primi sono furbi i secondi sono dei patetici lusi ma viene talvolta promosso come superamento dello Stato superamento dello Stato è una justificazione ma pure le stere che non esistono a quello del genere gli apparati statali non sono superabili anzi lungi dall'essere superati vengono utilizzati invece in modo privatistico questo sì questo sta accadendo l'uso privato delle istituzioni e delle apparati statali le vengono utilizzate in questo modo mentre viene svuotata la natura politica delle istituzioni in quanto luogo dell'esercizio della democrazia il famoso solito principio di indipendenza dell'utilizzo di parametri di risultato nelle azioni di governo è il metodo utilizzato negli ultimi decenni per togliere di mezzo i cittadini prevedere l'interesse generale e assicurare l'interesse di parte punto questo è a parte che con tutte la descrizione poi dei vari vincoli parametri i modelli a cui si deve adeguare parametrici a cui si deve adeguare anche a cui gestisce il ministero dell'economia oggi è veramente un percorso rispetto ci potrebbe andare a ragionire secondo me serve neanche che ci sia un chissà quale statista illuminato perché tanto tutto là il DEPF lo fai con i Quest 3 i modelli di SGE della commissione perché c'è tutta questa aggiunta e purtroppo è proprio questo il neoliberalismo è la lotta di classe come diceva che vuole un passo solo che è quella fatta da loro e non quella fatta da noi è il trasferimento di ricchezza dai molti ai pochi e il trasferimento di potere dai nuovi della democrazia ai mercati di capitale e come pensiamo che gestiscano l'economia questi fenomeni in modo razionale come dicono che i mercati sono razionali equilibrato sostenibile no sicuramente no tutto questo sta producendo un'instabilità globale allarmante un senso di sicurezza generale povertà elegante disoccupazione indennica un disastro sociale di occupazioni e di che il problema comunque ripeto è sempre politico come ho detto fino all'inizio e riguarda i rapporti di forza capitale lavoro capitale democrazia stato mercato e non si risolve il peromagia togliendo il vincolo esterno eh vede così perché a me guardate c'è una narrativa noelro mi fa tenerezza diciamo perché no però vado a spiegare vado a spiegare intanto a me quelli che parlano di costituzione patria cose fantastiche e poi mi dicono che escono dall'euro e restano all'unione europea mi fanno ridere bene tu mi prendi in giro perché poi il problema il problema è che comunque le fonti normative sono sempre lì le abbiamo viste sono quelle i parametri non cambiano più di tanto non è come dicevo prima che il modello un piccolo cambiamento nel modello economico mi crea tutto questo spostamento nel modello sociale se andiamo ad osservare i paesi che oggi non sono nell'euro ma sono in europea c'è uno spostamento a destra che fa spavento la Polonia sommente nazista in Ungheria Orban dicono tutti che è vero che non c'è la tanta disoccupazione la disoccupazione è molto bassa sì allora io ho incontrato il parlamentare ungherese a Lisbona ottimo lo scorso abbiamo fatto una lunga chiacchierata mi hanno raccontato come succede in Ungheria lì hanno dei piani di lavoro però sono dei piani di lavoro di destra quindi proprio si chiama il tour ha preso l'agente che era impiegata nel settore pubblico l'ha licenziata la spavuta su una strada o l'ha riasciuta con il programma di lavoro per una pipata il tabacco è sotto occupazione è sotto pagata poi nei numeri sembra che non c'erano però è sotto occupazione e è sfruttamento abbiamo la Repubblica cieca anche qui l'hanno portata a destra l'anno scorso una collega cieca simpaticissima mi ha detto lui vi vergognavate di Berlusconi non avete idea di chi vi hanno votato noi il classico imprenditore di successo in Manicato è di 10.000 robe come si sa che adesso ha preso in mano le regini dell'agente c'è perché il sistema in cui siamo inseriti è comunque un sistema a guida del mercato e ormai queste idee si sono inserite nella testa della gente è l'idea che l'imprenditore sia il novello re pescatore con capacità taumaturciche sull'economia ma la gente si crede in Romania in Romania la Romania cresce del 6.1 all'anno con punte dell'8 bravi come no 47% di popolazione sotto la soglia di Pomerano ma di cosa stiamo parlando poi ci sarà un motivo per cui la Gran Bretagna che non era neanche dell'euro ha voluto uscire dall'Unione Europea pare di no dunque lo dico proprio con estrema franchezza per me uscire dall'euro oggi con il potere contrattuale del lavoro ridotto a zero fa il gioco del capitale nazionale e non risolve il problema dello sfruttamento c'è chi dice che non è possibile di dare forza domanda interna al lavoro finché si resta nell'eurozona è vero ma in parte in parte perché qualsiasi trattativa sia per una modifica sia per un'uscita sono legate al peso degli interessi in gioco e gli interessi che pesano oggi non sono quelli delle classi sociali più basse più duramente colpite quelli più fragili e vulnerabili faccio solo notare che una ripresa industriale dell'export soprattutto a nord io sono veneta si vede chiarissimamente c'è ma aumentano i posti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo pieno crescono quelli a tempo parziale e quelli precari si vede perché le ore lavorate sono diminuite anche se l'occupazione è paragriotesca le ore lavorate sono diminuite cioè da noi i contratti precari precari sono aumentati ma com'è sta cosa le cose vi vanno bene state bene iniziate a crescere e a noi ci massacrate sì ci massacrano sì perché questo succede quando non ci sono i diritti del lavoro caduta libera per cui non è che mi fido troppo di dire usciamo perché dopo loro si riprendono e dopo ce ne viene anche a noi a noi valveri lo stesso questo è il problema ho capito infatti io comunque propongo no a me mi dispiace l'interazione assolutamente però per me quello che conta è puntare a rafforzare il proprio capitale lavoro cioè del lavoro è perché aumentano appunto gli stagio il lavoro gratuito gli inattivi dalle ragazze la situazione allarmante abbiamo un numero di inattivi o altro d'Europa la gente è talmente esplaggiata che non va neanche più a cercare un po' se lo loro soprattutto il sud ma pare era chi questa che aveva fatto anche una ricerca ma è sul circa 3 milioni inattivi in Italia ma è esagerata proprio quindi dobbiamo iniziare a prendere un cambio di rotta su questo ma proprio su questo stroncare stroncare le suggestioni della flat tax ma no il richiamo alle proprietà salvifiche della triple down e poi mamma mia che questo oltre all'idea bislacca che siano le imprese a creare lavoro e prosperità sociale la rettorica insopportabile insopportabile dell'auto imprenditorialità delle start up innovative cioè del mercato come unica dimensione della libertà dell'indiguo se cambiamo rotta invece riusciamo ad andare a lavorare ai fianchi il sistema e il suo complesso dobbiamo infilare dei paletti nelle ruote di questa macchina internale altrimenti non acquisiamo potere nemmeno quello necessario a contrattare riportare forza la domanda interna e qui poi do un assist a Catania che sono sicura che farà una proposta di sicuro interesse e voglio anche dire che in questo quadro che stiamo tracciando la questione tecnica di come uscire dall'euro è un esercizio stilistico che devo dire mi ha anche stupato perché domani tutti si mettono a scrivere paper su come uscire tecnicamente dall'euro il problema non è tecnico è politico sappiamo che è possibile che non è una traseglia greca scusate le ironie anche forse di Cacicobus però sono gli interessi di classe che poi vanno a determinare la modalità vera di uscita perché sono quelli che contano conta come si esce conta poi mi devi dire anche che riesci per fare cosa cosa produci come produci che politica industriale il settore il ruolo lo Stato se non mi dici queste cose io qualche dubbio ce l'ho soprattutto se mi dici che resti nel mio pello qualche dubbio ce l'ho ecco devo anche dire che la MMT cioè l'antelio della moneta moderna ha da tempo elaborato una sua proposta di uscita dall'euro che tra l'altro dal punto di vista teologico è molto scolta non è mai stata presa in considerazione perché ha una connotazione laborista forte ma guarda te che caso no? perché ha dato a cacciare il prezzo un salario di vita come principio inderogabile la piena occupazione garantita e dice che si può avere piena occupazione garantita e pure stabilità dei prezzi però sapete per chi ha familiarizzato gli istituti di palestri che questa cosa proprio non passa non passa sebbene avere un sacco di cose meravigliose la piena occupazione è garantita anche per le imprese l'idea di perdere la capacità di disciplinare il lavoratore subordinato fa in modo che questa cosa non metta presa in considerazione anche se veramente garantisce stabilità interna eccezionale e soprattutto controllo dell'inferazione in questo modo come la pone la LMP ma sapete questo purtroppo la malavetà piuttosto che arrivare a questo tipo di compromesso muoia Sassone con tutti i criteri quindi possiamo arrivare a questo livello l'unico partito che sta prendendo un po' in seria considerazione iniziamo a prendere in seria considerazione l'AEVM che è l'Ego Party perché quello ormai è un partito di sinistra che mi sembra di sinistra maggiorista veramente innovativo molto concreto e che ha le idee chiare su quello che vuole fare cosa che forse noi in Italia ancora non abbiamo raggiunto purtroppo perché la discussione anche su queste tematiche qui la si deve sviluppare perché mi deve appunto fare un'analisi di classe mi deve fare un'analisi di rapporti economici altrimenti che sinistra sede ma che sinistra siamo se non parliamo di queste cose qui e anche per qualsiasi argomento va fatto questo tipo di analisi soprattutto per quanto riguarda la questione europea e anche la questione dell'euro non possiamo essere uguali a quelli di destra perché non è così noi abbiamo un altro tipo di modello sociale di riferimento ecco io volete ho anche finito devo dire la mia presentazione perché non volevo essere troppo pesante ho già dato un sacco di dati e un sacco di cose non so se volete che facciamo le domande su questo domande del pubblico su l'intervento o come facciamo scusate che in genere viene in malattia perché prendiamo un microfono però perché però abbiamo limitato l'euro spazio abbiamo limitato io ho sintetizzato quello che tu hai detto adesso l'ho sintetizzato due letteri al manifesto si ce l'ho grazie e le ho via a te fra tu gli anni ho risposto grazie dopodiché non si è sviluppata una parola su questo unico che sia una né a Milano né a Roma né a nessuna parte per questo ti dico che tipo di animale sei come hanno fatto candidati su dentro perché perché io a un certo punto mi avevano proposto e ho preferito restare fuori perché con quella strategia che poi avevano sviluppato per i candidati onestamente mi vergognavo già di appartenere a un certo punto stranamente mi hanno candidato io ho citato la candidatura proprio perché facendo campagna elettorale ho potuto dire queste cose non potevano chiedermi la bocca una parte di queste cose c'è qualcuno che lo fa c'è una parte c'è una parte però dobbiamo Passina 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 però Passina l'ha sentito l'hai sentito più no ma insomma dai intanto è stato rieletto scriva anche lui sulla puntumposta l'ha eletto l'ho benissima no no dobbiamo andare da due parti qualche altra domanda riflessione grazie intanto farò sicuramente la dottoressa Toccato perché la sua esposizione l'ho trovata assolutamente brillante nello spiegare perché una governazione a multilivello la democrazia non è né contemplata né contemplante il punto è se pensiamo anche alla resistenza hanno rischiato la pene molti sono morti perché la libertà è la democrazia non è quantificabile quindi quella è una battaglia che non si può non combattere allora una cosa che io dico da persona che ha le elezioni ha annullato artisticamente la scheda perché io non posso nemmeno prendere in considerazione di votare a destra chi scarica le colpe sul colore della penne per quanto sia detto per inciso io credo che le frontiere vadano controllate anche per quello che riguarda la mobilità delle persone però scaricare la colpa sul colore della penne è inaccettabile non posso prendere in considerazione chi vuole raffrattaccia cioè mi vuole imporre una prospettiva di stato minimo con altri mezzi io devo scontrare quanto dal liberismo non voglio fare un altro liberismo sono d'accordo con una cosa che ha detto fa ridere qualsiasi ipotesi qualsiasi prospettiva di uscita dall'unione monetaria europea non congiunta ad una prospettiva di uscita dall'unione europea se non è un sistema fatto per essere democratico cosa stiamo lì dentro ad accettare una restaurazione oligarchica allora molto vera un'altra cosa che ha detto nel processo che deve portare al cristino della democrazia è fondamentale quali sono le classi sociali che guidano il processo perché perché se noi andassimo anche a riferazione a una continuita monetaria europea poi si trova l'accomodamento magari per l'unione europea nel caso greco lo propose sciogliere e Zipras fu un pazzo a non accettare avrebbe dovuto accettare assolutamente stabiliva il processo a postura avremmo risolto il problema perché se ne scappavano tutti stabilito il precedente rimaneva la Germania da solo allora il problema lo dobbiamo congiungere a porre possiamo pensare di gestire le transizioni in mille modi tra le altre cose acquisendo un potere contrattuale attraverso monete fiscali perché no ma ci dobbiamo porre il problema della democrazia in un contesto di governazione di livello che non è fatto per essere democratico ora quali spazi si aprono per un ragionamento di questo tipo nel momento in cui in Italia abbiamo esclusivamente prospettive politiche che si rassegnano alla posizione della democrazia o di prosecuzione del liberismo con altri mezzi grazie allora sono voto da parlo grazie a tutti